Terza in Italia per morti sul lavoro, in media 80 infortuni al giorno con 51 vittime nello scorso anno, tre province in soglia rossa nel 2023. Dati drammatici che riguardano la Puglia e rilanciati nuovamente dai sindacati pugliesi in occasione della giornata mondiale per la salute e sicurezza sul lavoro. I dati INAIL pongono la BAT da inizio anno al sesto posto nella classifica nazionale per incidenza degli infortuni mortali rapportati al numero degli occupati. Foggia in questa classifica è decima mentre Bari è ventiduesima. Nel solo mese di gennaio sono stati denunciati in Puglia 1.776 infortuni. Lo scorso anno invece c'è stato un aumento complessivo del 18,5% rispetto al 2021 con un totale di oltre 29.000 infortuni. Troppa indifferenza da parte della politica sul tema ammonito in una nota la Will Puglia attraverso le parole del commissario straordinario Emanuele Ronzoni. Il sindacato confederale chiede alla politica misure forti altrimenti di lavoro si continuerà a morire. In crescita in realtà ci sono anche le malattie professionali come ha spiegato Pino Gesmundo, segretario della CGL Puglia. I segnali che arrivano dal governo sono preoccupanti, spiegano dal sindacato confederale, si torna ai subappalti incontrollati, si propone un meccanismo di ispezione in azienda con preavviso, addirittura si avanza l'idea di smantellare l'ispettorato nazionale del lavoro, la denuncia della CGL che continua comunque assieme a Will e CISL nella mobilitazione nazionale sui territori per chiedere un cambio di passo su questo tema.